Ed eccoci ancora qui a Talk Sicilia, il programma di intrattenimento di Blog Sicilia che potete guardare anche sul canale 14 del Digitale Terrestre, il segnale di Videoregione. Un saluto quindi a chi ci guarda sulle reti social, un saluto a chi ci guarda dalla televisione, dal piccolo grande schermo. Oggi facciamo un piccolo salto all'indietro di qualche settimana perché insomma si è appena conclusa la stagione delle grandi elezioni, si è votato per il rinnovo del Parlamento nazionale, si è votato per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana e per i 70 deputati di Palazzo Normanni. Oggi diamo il benvenuto a Tony Sino, social media manager. Ciao, saluto agli ascoltatori. Grazie di essere con noi. È un piacere. Tony, insomma, lo conosco da tanti anni, è una figura storica del mondo del management applicato alla comunicazione politica. Nonostante sia ancora giovane, ha tantissima esperienza. Ora io, insomma, non lo voglio prendere per il guru perché la battuta che si fa è il guru del marketing, però Tony, insomma, con molta umiltà dice no, io faccio il mio mestiere, faccio la mia professione. Come funziona questo meraviglioso mondo un po' di... cosa fa un social media manager per far vincere un politico? Proviamo a tradurre il messaggio della comunicazione politica e anche, in qualche modo, a far conoscere la persona, in alcuni casi, anche nel suo privato, sui principali canali social, cercando anche un po' di rispettare le differenze che ci sono tra un canale e l'altro, perché è ormai noto che Facebook è diventato un po' generalista, ma Instagram e TikTok invece puntano a soggetti più giovani che possono però... Domanda da mille punti. È necessario ormai per un politico essere presenti sui social? Assolutamente sì, perché comunque è uno dei modi in cui le persone si informano e la gente sta lì, come un tempo stavano davanti alla tv o a leggere i giornali, quindi mi sento di risponderti in questo modo. Poi, chiaramente, ci sono le differenze importanti nel modo di ristarci, perché soggetti che hanno un approccio più istituzionale non potrebbero assolutamente fare quello che fa Salvini con il piatto di pasta o i gattini, che comunque erano strategicamente impeccabili. Dal papete in poi è una leggenda il social di Salvini, come viene gestito. Ad il tuo si farneticava, o probabilmente è vero, dell'esistenza di una famigerata bestia che governava il mondo social della Lega. Il sistema era una persona, cioè Luca Morisi, che poi è finito in grane giudiziarie, che comunque si sono risolte, e poi c'era un vero e proprio sistema che sostanzialmente andava a individuare quelli che erano i temi del giorno, e ti trovavi Salvini, che faceva un post su quel tema. Ma non è un po' contraddittorio che un politico che deve governare l'amministrazione pubblica, perde il tempo a farsi i selfie con i gattini, non è questo lo stile della tua comunicazione, però non trovi un po' contraddittorio che forse si dà troppo valore all'apparenza e vengono meno quelli che sono i programmi da proporre all'opinione pubblica, non c'è questo rischio nell'attività di media management? Ma in realtà è cambiato l'approccio del politico, perché un tempo il politico era una persona che aveva un cursus honorum, quindi aveva studiato e che comunque aveva ricoperto diverse cariche pubbliche, un po' i 5 Stelle hanno sdoganato questo, uno vale uno, e quindi un po' tutti si sono trovati lì. Quindi nel momento in cui Salvini posta il piatto di pasta o la Meloni si fa un selfie, non fa altro che avvicinarsi all'uomo della strada, alla persona comune che fa la stessa cosa, quindi è una precisa strategia di comunicazione. Poi in realtà è l'algoritmo che ti impone certe scelte, nel senso che contenuti che generano interazioni vanno a trainare altri contenuti che non generano. Però questo non è un aspetto abbastanza rischioso, se è un algoritmo a decidere quello che vale, l'algoritmo che è diciamo quel codice matematico, lo spieghiamo per chi ci ascolta, che decide cosa funziona e cosa non funziona sulla rete, in realtà è governato pure dai padroni delle locomotive, cioè dai grandi media del mondo, da Facebook a Google. È molto rischioso perché la rete veniva proposta ed è stata per molti anni un contesto di disintermediazione, perché prima si parlava molto di questa funzione di gatekeeping, cioè il cancello, che in qualche modo in cui c'è qualcuno che decide cosa può passare e può essere rappresentato alle masse. E come tre padri scorrono sul video le immagini delle pagine Facebook dei principali candidati alle elezioni di quest'anno, almeno per quello di guardare la regione. Sì, poi proveremo anche a raccontare qualche analisi. Però sì, sicuramente uno dei grossi temi della rete, cioè doveva essere un contesto di libertà, poi alla fine sono 3-4 aziende mondiali che decidono quali sono i contenuti che vanno in evidenza. Allora mi viene il dubbio, ma eravamo una colonia politicamente dal punto di vista geopolitico, rispetto all'alleanza atlantica, alle basi militari in Sicilia, eccetera, eccetera. Non rischiamo oggi di diventare una colonia dal punto di vista mediatico? Sicuramente i social hanno una funzione geopolitica, non a caso si vede quello che sta accadendo negli ultimi tempi. Con la guerra in Ucraina, è chiaro, c'è il racconto che è proprio tutto social. Però anche lì c'è un contrasto, perché per esempio TikTok, che è stato utilizzato anche in questa campagna elettorale, anche in maniera bizzarra dai nostri politici nazionali. Devo dire che il TikTok del presidente Berlusconi, penso passerà alla storia. Sì, sì, penso che sia anche un esempio. Ma secondo te l'ha fatta apposta o gli è scivolata la telecamera? No, no, è evoluto. Con la destina TikTok. Ha cercato una grammatica. Ma perché parla come il vecchio nonno che ha dei nipotini stupidi, cioè secondo me non si è reso conto che... Ma risulta anche simpatico per certi versi, e comunque... Ma poco credibile. Forse è la piattaforma... Non ne faccio una questione di posizione politica, ma... Ma io penso che... Cioè io mi sarei sentito preso in giro... TikTok oggi viene utilizzato da un pubblico tra i 13 e i 16 anni, più o meno, ma ovviamente queste persone... Cosa, che senso ha che un politico vada su TikTok? Perché anche loro influenzano il voto, perché... E come fanno? Cioè tu che... A tavola dicono, ho visto Berlusconi su TikTok, ma sai che mi è sembrato simpatico, cioè questa cosa viene sottovalutata, cioè ci sono dei soggetti... Assolutamente, io non l'avevo mai presa in considerazione. Eh, invece noi ci abbiamo... Ci dovete avere... Lavorato e abbiamo anche... Ma quindi è un mestiere, una professione impossibile la tua, cioè il parametro di controllo è proprio a 360 gradi, sono infiniti i parametri che devi controllare. A volte tirare fuori, diciamo, un'intuizione di questo tipo può anche aiutare a guadagnare qualche voto in fasce di soggetti che non votano, oppure sono al primo voto, per esempio. Ti stavo dicendo poco fa, invece, che c'è uno scontro tra i social che è anche natura geopolitica, perché TikTok è cinese, e questo è un problema non indifferente, non a caso. Si parla della possibilità di rimuoverlo dagli store americani, quindi di Apple e di Google, perché... Perché noi esportiamo la democrazia, ma non importiamo TikTok. Esatto, però possiamo anche controllati, per certi versi. Diciamo che si teme che alcuni dati potrebbero finire in mani sbagliate, così come è avvenuto... Ma ormai c'è una voragine, cioè basta che entri su Google... A me capita, per esempio, ora ti chiedo di spiegarmi come succede, parlo a tavola con dei miei amici, mi piacerebbe fare un viaggio in Brasile, e dopo tre minuti mi arriva la pubblicità di un viaggio in Brasile. Sono io che sono pazzo e complottista, o funziona così? Probabilmente tu hai già fatto delle ricerche di quel genere, però è ormai provato che alcune app sono in grado di spiare le conversazioni. In realtà non le stanno spiando, perché sei stato tu stesso... A dare il consenso. Il consenso, quindi diciamo che prendono dei pezzi... Per capire chi ci ascolta, tu mi stai dicendo che ci sono delle applicazioni che noi usiamo quotidianamente sui nostri cellulari, sui nostri computer, che hanno il microfono aperto anche quando non li usiamo. Esatto, e lo fanno anche le smart tv. Cioè ormai è provato che molte tv lo fanno, però si spera che sia un ascolto, come dire, anonimizzato, nel senso che tu vieni considerato in quanto soggetto ignoto. Non sei Piero Messino Tonisino, sei un bit. Viene ricostruita, diciamo, una tua persona digitale che è interessata ai viaggi in Brasile. Se poi invece ci fosse qualcuno che estrapola quelli che sono gli interessi di Piero Messina e quello che fai durante il giorno, allora sarebbe veramente preoccupante, perché diversamente... Cioè io cerco di vedere sempre il lato positivo. Il fatto che ti venga mostrato un contenuto di tuo interesse potrebbe essere un vantaggio. Cioè tra tutto il mare magnum di informazioni che ci vengono presentate, a quel punto che ti facciano vedere i viaggi in Brasile e non quello a Roccapalumba, potrebbe essere per te... Domanda da un milione di punti. Ma questo meccanismo funziona anche nella selezione, come dire, della comunicazione politica? Sì, ed è stato per certi versi ostacolato negli ultimi tempi. L'esempio tipico è quello di Trump. Cioè Trump ha fatto tutta una serie di inserzioni sponsorizzate, tantissime, quindi non 3-4, ma c'erano centinaia di casi diversi in cui declinava il suo programma in funzione di quello che era il target. Quindi se tu avevi l'operaio di Detroit che lavora nell'industria automobilistica... La famosa Rust Belt americana. Esatto. Il messaggio sarebbe stato prima gli operai di Detroit. Che risolvono un sacco di problemi e che fa comunicazione. Però ci rende, come dire, ci fa comprendere che ormai il mondo della condizione politica è più che altro lo specchio dei nostri desideri. Non c'è una progestualità vera. In risposta a questa strategia, Facebook ha dato la possibilità di vedere quali sono le inserzioni del singolo politico. Quindi tu puoi sapere che Trump sta facendo delle inserzioni diversificate per diversi soggetti e poi anche attuare contro mosse. Quindi si vede quanto spendono i politici e si vede su che cosa stanno puntando, cosa stanno sponsorizzando. Facciamo un viaggio intercontinentale. Lasciamo le sponsorizzazioni fatte da Trump e torniamo in Sicilia. Io vorrei raccontare a chi ci ascolta che comunque è tonisino, perché è così famoso, è così... e la sua presenza è importante qui a Torco Sicilia, perché è autore di quelli che gli inglesi direbbero un hat-trick, una tripletta, no? Sì. E più altri successi... Il tripletta, sì. Il tripletta. Che non siano molto il calcio, però... No, vabbè, hat-trick e la tripletta. Quando fai tre gol in una stessa partita, nello stesso campo. Tony è stato il social media manager del presidente Musumeci quando ha vinto le elezioni cinque anni fa. Il social media manager è il consulente di Roberto Lagalla che questa primavera ha vinto le elezioni come sindaco di Palermo e adesso, come dire, l'ultima medaglia che ti appunti sul bavero della camicia è l'elezione di Renato Schifani. Sì. Come fai? Cioè, vengono da te perché sei vincente? Sei una sorta di talismano portafortuna o sei veramente più bravo dei cazzi? Io non sono... Non lo direi... Non fare professione di umiltra. No, non sono superstizioso, però si sta un po' diffondendo questa voce, diciamo, che io porti fortuna. A questo punto mi proporrei anche per l'inaugurazione di case, aziende, ma sarebbe, diciamo, un tantino presuntuoso. Ma penso di essermi un po' specializzato sull'uso dei social media per le campagne elettorali. È una cosa che viene da lontano perché, per esempio, il 2007 aprimmo proprio con Biaggios Emilia. Ah, il nostro editore. Esatto, l'editore di Blog Sicilia e Twitter a Diego Cammarata ed era un momento in cui praticamente non c'era nessuno su Twitter. poi tutti si innamorano di questa cosa, diciamo. Quindi non è un triplete, cioè è una storia che arriva da lontano. Sì, ho fatto più di dieci campagne elettorali, anche nazionali. Ma mai ti sei sentito, come dire, responsabile di una vittoria che non avresti desiderato? O ti è capitato di dire no, io per questa politica non ci voglio lavorare. C'è una scissione totale tra quelle che sono le convinzioni e il lavoro. Cioè cerco di avere un approccio sempre professionale, quindi con un certo distacco. Non a caso ho lavorato sia con politici del centro-destra che del centro-sinistra e cerco proprio di fare questo. È chiaro che nel momento in cui ho la possibilità di scegliere scelgo quelli che hanno un po' di chance in più, anche per giocarsela. Quindi in questa occasione per esempio mi è sembrato che il centro-sinistra fosse particolarmente debole, anche se mi avessero chiamato penso che non l'avrei accettato. Qual è stato il peggior difetto della comunicazione del PD alle elezioni nazionali e regionali, secondo te? Ma le elezioni regionali io penso che abbiano interpretato in maniera un po' estensiva il concetto di silenzio elettorale. Cioè hanno iniziato 40 anni prima. Non hanno fatto campagne elettorali. Non c'erano, devo dire che... Quindi è il classico studente e non giudicabile. Sì, sì, non si sono impegnati. Hanno deciso di perdere. O un metodo tra e-sporting. Hanno deciso di non decidere. Di non partecipare. Cioè hanno quasi non partecipato. E invece perché? C'è stato uno sforzo. Tu sei di parte, ovviamente, perché almeno da parte professionale, non so quali sia la tua, come dire, aspirazione politica, la tua posizione politica, ma non te la chiedo perché non è... Cioè è un fatto tuo e tu devi restare. Ma invece perché Renato Schifani ha vinto? Almeno sui social. Perché ha vinto? Beh, sui social, diciamo che è stata una campagna elettorale molto, molto tranquilla. Poi lui ha ottenuto, insieme abbiamo ottenuto dei risultati comparabili con la Chinnici, perché entrambi sono partiti con i profili a cavallo tra agosto e settembre. Quindi un po' in ritardo. Sì, e Schifani ha praticamente doppiato l'engagement della Chinnici. Engagement cosa significa? La visibilità? Le interazioni, cioè il numero di commenti, mi piace e condivisioni dei contenuti. Ma possiamo dire che dal punto di vista social il vero vincitore di questa campagna è Cateno De Luca, che ha fatto sui social. Sì, possiamo dirlo, ma lui parte da una base veramente imponente, ha centinaia di migliaia di follower costruiti negli anni, e Schifani è partito soltanto adesso. Adesso la Chinnici ha fatto una scelta incomprensibile, cioè quella di non utilizzare quelli che erano i suoi canali da parlamentare europeo. Ha aperto dei canali nuovi, come se cominciasse da zero, e questo secondo me è un errore che non dà imputato assolutamente al suo staff, perché immagino che le abbiano proposto. Quindi la dottoressa Chinnici, anzi l'onorevole Chinnici, aveva un suo profilo social che non ha utilizzato per la campagna elettorale. Aveva una pagina sicuramente con circa 10.000 follower. Non me lo spiego. E so per certo che insomma non è una scelta dei suoi comunicatori, perché conosco i comunicatori e sono... Ma questo significa che in realtà le attività che si fanno del cosiddetto seeding, l'alimentazione, il nutrimento che bisogna fare al profilo social di un politico è una cosa che va coltivata al tempo. Non esistono successi estemporanei. Sì, un errore è quello di considerare i social come il manifesto elettorale, che viene fatto da tanti, cioè si usano soltanto quando ci sono le elezioni e poi non sono più importanti, non vengono più utilizzati. Invece dovrebbero essere utilizzati più durante il mandato che durante la campagna, perché anche il momento in cui l'eletto ha più tempo per usarli e può esprimersi in maniera più completa. Che esattamente è quello che si fa quando si compra una macchina. Tu la pubblicità della macchina che sia social o tradizionale non la guardi per comprare la macchina ma per essere assicurato dell'acquisto che hai fatto, no? Sì. Cioè date questo... È una criticità che sicuramente esiste, però Cateno De Luca in questo ha fatto sicuramente un lavoro di lungo periodo. A me è piaciuta molto la campagna social di Nuccio Di Paola, devo dire. Hanno utilizzato i Reel. Nuccio Di Paola è il candidato del Movimento 5 Stelle che diciamo, fino agli ultimi giorni non si pensava che ottenesse un risultato così forte. Invece rispetto a... Hanno utilizzato, hai detto, così da un termine... I Reel. Cos'è un Reel? Sono dei video con un formato lungo che un po' sostanzialmente copiano il formato di TikTok su Instagram. Perché è un formato che funziona e loro li hanno utilizzati a mio avviso molto bene. Di Paola, proprio ospite di Talk Sicilia, aveva detto io non credevo che avremmo avuto questo risultato. Il presidente Conte è venuto qui in Sicilia a dirmi no dai, ce la facciamo, faremo un bel risultato. Alla fine, poi i numeri alla mano. Di Paola non è stato eletto presidente della regione perché la forza del centro-est era veramente prorompente. Ma come... Sono il primo partito in Sicilia. Sì, sì, hanno fatto sicuramente un ottimo... E molto lavoro dipende dai social. E credo di sì. Ecco, a proposito di questo, c'è un candidato nella storia non necessariamente siciliano, non necessariamente italiano, per cui ti sarebbe piaciuto lavorare? Che ti posso dire Nixon piuttosto che Ford, piuttosto che Ho Chi Minh, piuttosto che Mao, Gandhi? Cioè, il tuo candidato ideale dal punto di vista proprio empatico, qual è il candidato nella storia del consesso politico mondiale? Con chi ti sarebbe piaciuto lavorare? Questo è Barack Obama, perché lui, nel momento in cui, uscito con quella campagna che aveva una grafica completamente diversa rispetto a tutto quello che si era visto prima e anche nell'approccio... Era quel graffito colorato... Era una O, una O molto grande con delle onde che è un po'... Non me la ricordo questa. Sì, sì, è una O. E cosa diceva lo slogan? Cosa raccontava? Yes, we can. Ah, yes, we can, certo. Era, appunto, secondo me, una pietra migliare della comunicazione politica, però in realtà anche la Galla ha fatto una campagna assolutamente atipica che alcuni comunicatori palermitani prendevano in giro perché aveva questo fucsia che in genere viene associato un po' alle campagne per la salute... Vabbè, lui viene dal mondo della sanità, non era sbagliato come dire dare quel ritorno psicologico. No, però in realtà l'agenzia che se ne è occupata che è The New Place voleva proprio andare a differenziarsi rispetto alla comunicazione politica tradizionale che ha in generale questi blu molto istituzionali, eccetera. Ricordo proprio... Diciamoci la verità, noi italiani peschiamo a piene mani dal mondo anglosassone. Sicuramente. Blu è rosso, sei di destra, blu sei... Anche un po' banale, poi sbagliamo pure i colori perché negli Stati Uniti è esattamente il contrario, il rosso è il colore dei repubblicani. Però ricordo benissimo lo sfottò di un mio amico e collega che diceva sembra la campagna del papillomavirus, cioè la prevenzione del papilloma, però poi ha funzionato perché comunque rimaneva in pressa. Cosa raccontava la Galla in quello slogan? La Galla... Declinava tante frasi. Aveva le dieci rivoluzioni. Ah, le dieci rivoluzioni. Ha scritto dieci cose che volevano appunto essere rivoluzionari e questo contrastava un po' con quello che il suo profilo molto istituzionale era assicurante. Quindi lui che si propone con una rivoluzione anche se in passato le rivoluzioni in politica in Sicilia... Beh, un democristiano che fa la rivoluzione è veramente una novità perché non penso che si offenderà il sindaco della Galla seguito affettosamente del democristiano. Immagino perché ovviamente la parte di comunicazione, cioè l'impostazione della campagna non è... non la facciamo noi, poi noi la decliniamo eventualmente sui social si voleva proprio giocare probabilmente su questo contrasto. Cioè un democristiano che fa la rivoluzione è già una notizia e quindi penso che questa cosa sia passata. La campagna elettorale è particolarmente complicata quella delle comunali, piena di attacchi. Evitiamo le polemiche, pieni di attacchi, probabilmente molto spesso strumentali. C'era del vero in alcune cose che sono successe, però come dire bollare a vita le persone per errori che hanno fatto terze o quarte persone mi sembra che sia assolutamente improprio. Poi c'è stata anche qualche scivolata pure sull'aspetto familiare che come dire si sarebbe potuta risparmiare, no? Un caso simile a quello di Giorgio Meloni, no? Sì, diciamo che la responsabilità... Poi è stato come dire subito insabbiato perché hanno capito no, sta roba proprio che non funziona. Ma... Ecco, come fate per esempio un social media manager quando deve combattere con i media tradizionali? Che armi ha a disposizione? Cioè, se ti attacca Repubblico, si attacca il Corriere della Sera, tu come rispondi? Come fai a gestire una crisi? Allora, sono attacchi che prendiamo sicuramente sul serio, ma più che altro perché potrebbero andare a influenzare gli altri giornalisti opinion leader che comunque possono strumentalizzarli contro di te. Però sicuramente la forza della rete è che il costo contatto per raggiungere il nostro destinatario, quindi il potenziale elettore e soprattutto l'indeciso perché sugli indecisi si fa praticamente la gran parte della campagna che si parte da un assunto molto semplice cioè che quelli che ti votano ti votano, quelli che sono già convinti di votare il tuo avversario sono praticamente persi tranne una piccola parte e gli indecisi sono quelli su cui in genere tu fai la corsa perché sono quelli che di fatto determinano il risultato delle elezioni ti dicevo il costo contatto è infinitamente più basso sui social quindi hai più armi hai più munizioni si mettono soldi spesso su quelli che sono i contenuti quanto vale una campagna di comunicazione cioè per fare il presidente della regione quanto bisogna spendere sui social secondo me ma attualmente l'ideale sarebbe da 3 a 5 mila euro sulla Sicilia perché si riesce a coprire ma quindi non è tantissimo è sostenibile non c'è paragone cioè in manifesti e uscite centinaia di miliardi di euro quindi è democratico la rete è democratica da questo punto di vista assolutamente sì perché diciamo che tantissimi riescono ad accedere al pubblico io immaginavo costi molto più onerosi sinceramente no credo che per le elezioni nazionali Conte abbia speso circa 30 mila euro nel periodo clu ai tempi non comprare neanche una pagina di un quotidiano nazionale era impensabile ovviamente il fatto di promuoverti non basta perché se il contenuto non è degno di attenzione il candidato il prodotto serve sì cioè non stiamo vendendo fustini di retersivo no io ricordo un libro di qualche anno fa che si chiamava questo candidato lava più bianco me l'ho letto pure io ma c'è pure anche la versione Gesù lava più bianco sulla religione sulla comunicazione religiosa beh il tema è che appunto da un certo momento in poi Berlusconi sicuramente ha fatto tanto da questo punto di vista beh però ha scopiato la campagna francese degli anni 80 l'Italanda è stato quello che ha cambiato un po' tutto diciamo che comunque è arrivato questo concetto della politica dei partiti un po' come prodotto e quindi quello che ci gira attorno è molto più vicino alle regole del marketing che a quelle della politica come si faceva una volta questo molti candidati l'hanno capito e noi proviamo a aiutarli a declinare la campagna in questo senso il tempo a nostra disposizione è finita credo che Tonisino ci abbia raccontato qualche interessante retroscena del mondo della politica di oggi diciamo di come i social si applicano io credo che questo tema sarà come dire da riaffrontare magari fra qualche settimana fra qualche mese ci risentiamo e magari facciamo un bilancio di come funziona la politica con i social nel momento in cui il tuo candidato diventa come dire il vertice istituzionale sarà un piacere grazie a Tonisino per essere stato con noi grazie a chi ci ha seguito una buona giornata e al prossimo appuntamento con Talk Sicilia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti